Start, 2, 1, history mission and liftoff! Allora, iniziamo e dovremo ristaurare dei monumenti più famosi al mondo usando i vari tool e accertandoci che il progetto sia giusto, insomma, quindi che non si vada a fare cose diverse da quello previsto. Ci muoviamo con Buzz, come dice il nostro tutorialone, lo analizzeremo all together e vedremo. Vai alla scrivania al centro del OK. Tra l'altro c'è qualche piccolo problemino di movimento del mouse. Ecco, piccolo problema che dobbiamo andare a sistemare perché la sensibilità del mouse fa schifo. Ok, adesso ci siamo. Ok, clicca al centro della scrivania, abbiamo preso OK. Ciao, mi chiamiamo di licenziare la lotta guida nel mondo di Monuments Flipper. Gli occhiali permettono di passare la modalità aerea alla visione. Ok, Alt. La visione interiuterà nei compiti eseguiti. Ora apriamo il tasto M. Ok, M. Se ancora il menu ha le informazioni utili sui tuoi progressi. Ok, qua vediamo la mappa della missione, questa è la Francia. Le statistiche è bloccato e l'ufficio. Ok, prendiamo il tasto della mappa della missione. Ecco la mappa della Francia. Poi potremmo fare anche il Colosseo, insomma, tanti monumenti nel mondo. Ecco la mappa della Francia in cui si trovano i monumenti. Le missioni hanno diversi requisiti sotto forma di esperienza. Ottieni l'esperienza eseguendo i compiti. La missione Vecchio Borgo non richiede alcuna esperienza, pertanto cominciamo da esso. Clicca l'icona Vecchio Borgo sulla mappa. Eccolo qua, perché poi c'è Notre-Dame, la Tour Eiffel, Zay de Leride, Saint-Michel-Digrille e Porte du Gard, il mulino di Gerusalemme, insomma, tutti in Francia. Ok, budget 12.000 dollari, progresso 0%, tempo stimato 35 minuti. Ecco le informazioni della missione, tempo di gioco stimato per anche vedere i compiti da completare. E qua sono i vari documenti. Ok, continua. Per poter iniziare devi prima leggere i documenti. Clicca su qualsiasi documento per visualizzarlo. Ok, eccoli qua. Il Vecchio Borgo. Molto interessante sta cosa perché ci fa vedere proprio la panoramica del luogo di lavoro dove andremo ad operare. Ok, edificio residenziale, periodo d'ora usato come casa di caccia, luogo dimenticato per molti. Ok. Lavori di conservazione e riparazione. Occorre fare un inventario degli elementi del tetto che si trovano nella zona. Metti da parte quelli che sono buone intenzioni, buone condizioni e possono essere riutilizzati. Integra la struttura del tetto. Copri con le tecole. Stato di conservazione. Allora, il tetto è in pessime condizioni. Questo è un altro tetto rispetto all'altro. Bisogna do una riparazione immediata. La struttura è stata gravemente danneggiata. La condizione del tetto influenza significativamente l'intero edificio. Ok. Stato di conservazione. Abbiamo muschi e rifiuti. Abbiamo l'investitore vuole creare un mini museo. Dovevano raccogliere tutte le antichità. Ok. E poi abbiamo un pezzo particolarmente importante. Un'antica lancia romana. Ok. Va bene. Cominciamo. Ok. Andiamo al vecchio borgo. E vediamo i lavori che ci sono da fare. Ovviamente questo è tutto guidato. Non è che vi insegnano a giocare. Perché lo stiamo provando insieme. Però questo è uno di quei classici giochi dove si gioca di pancia. Almeno secondo me. Osserva la casa. Ok. Dobbiamo osservarla a casa. Possiamo entrare nella modalità con gli occhiali. Che ci fa vedere in posta al banco. Ok. È possibile selezionare obiettivi in corso. Osserva la casa. Vediamo. Osserva la casa. Stiamo facendo il giro. Si può correre. Quindi si può andare a vedere la casa. Graficamente ha degli alti e bassi. Perché qua la collina non è nulla di che. Mentre invece la casa è già comunque carina. Sposta le travi. No. Possiamo vedere la casa. Dobbiamo vedere da qui. Ok. E adesso possiamo accedere a tutti gli utensili. Possiamo andare a scegliere una delle degli edifici. Adesso possiamo vedere questo. Stiamo osservando questa casa. Perché tenendo premuto poi possiamo andare a scegliere. Osserva il palle di legno. Quando ne dimentichi cosa fare. Premi H. Prevendo X sulla tastiera si altererai il passaggio attuale del tutorial. No. 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 Va bene. Va benissimo così. Va benissimo così. Allora. Osserva il pallet. Un compito di osservazione è completato quando si osserva. Ok. Guarda ogni casa e pallet. Ok. Per qualche secondo. Perfetto. Allora abbiamo osservato il primo. Abbiamo osservato. Sì. Dovevo osservare adesso anche questo pallet qui. Ok. Osserva il gioco passato a osservare pallet. Ok. Osserva la casa. Ok. Vedete che la sto osservando. E mi dà il controllo di... Ecco. Posiziono le travi sul pallet. Quindi. Dove sono le travi? Ora possiamo metterci al lavoro. Clicca sulla grande trave vicino al pallet per accoglierla. Va bene. La grande trave. Afferro la trave e la metto sul pallet. Bellino perché dobbiamo posizionarla... Ok. Fisicamente. Cioè si sente proprio il peso del... Dell'oggetto. Carino perché non è fatto schematico dove me lo butta direttamente lì ma... Dobbiamo metterlo noi. Bello. Carina come cosa. Poi non sarà sicuramente il gioco della vita. Però... Comunque. La soddisfazione di questi giochi è vedere un luogo o un oggetto insomma cambiato. 5 su 5 travi. Ok. Manda le travi alla segheria. Quindi manda la segheria e ci costa 500. Ok. Attendi la consegna. Distruggi le quattro tavole di legno che bloccano la porta. Potrei attivare questo e andare a fare questo compito adesso. In modo da... Vediamo. Dobbiamo prendere un'accetta. Carina perché abbiamo più cose da fare e le amministriamo nel mentre. Stiamo aspettando magari qualcos'altro. Ok. Ok. Distruggiamo anche queste. Che non credo siano antiche queste quindi... Vai piano di sopra. Piano di sopra... Di cosa? Qua dobbiamo attendere. Andiamo piano di sopra. Ok. Tenendo premuto vedete che mi ha aperto la porta. Piano di sopra e qua. Dove è un pulito. Aspettate che... Metto via l'accetta prima di fare danni. Saliamo. Ok. Distruggi le tavole rotte. Ok. Prendo l'ascia. Non so dove siano le tavole rotte ma... Queste. Ok. Ok. Non so dove siano le tavole rotte. ok raccogliere le tecole danneggiate quindi mano mano non so dove siano le tecole danneggiate vediamo un attimo se c'è qualcosa no, mani i rifiuti possono essere raccolti con il tasto sinistro del mouse ok, quello si poi mettere il bidone che si trova all'esterno ok il problema è che voglio selezionare questa ok, così mi dice dove andare perché queste qui sembrerebbero tecole però solleva ok raccogliere le tecole danneggiate ah, quelle danneggiate non quelle intere ok, eccole lì ok ho messo un attimo a capire ma sono qua ok ne mancano due che non so dove siano eccole lì eccole qua una e due perfetto attendi la consegna vabbè, fatemi non c'è il sacco qua no? lo butto di sotto poi ci pensiamo dopo raccolgo le tecole raccolgo le piastelle ok e dove le metto io le piastelle? no, non me lo dà lì qui 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 ci indica tutto però il bello è che va selezionato proprio l'obiettivo delle cose da fare quindi stiamo ancora attendendo la consegna delle travi tagliate che abbiamo mandato alla segheria per la modica cifra di 500 dollari ora stiamo sistemando qua penso sarà una figata poi vedere il villaggio questo borgo antico borgo rimesso a nuovo per quanto è un restauro quindi si perde magari tanto il valore dei pezzi originali ma non me ne intendo di di archeologica quindi lavoro e sto zetto allora ne mancano sei ancora mamma mia è lungo il lavoro qua dovrebbe essere arrivato sì sono arrivate le travi quindi adesso inizieremo anche a lavorare lì ma sapete che non è male non è male ero molto più in dubbio prima ah perché ne ho buttata dentro una lì sì infatti continua a segnarmi quello prendo questa la butto qui ne manca una che è quella lì è l'ultima perfetto adesso dovremmo essere a posto specialmente a posto raccogli le tregole per la ristrutturazione con la x rossa ok e le mettiamo di qua ah le rimettiamo a posto ok queste le ristauriamo allora come non detto potresti cortesemente ok poi questa non dovrebbe essere la versione finale del gioco ma è quella pari rilascio quindi non è ancora giocabile il gioco ho detto io lo sto giocando il 9 di novembre manca ancora un po' al 14 quindi tegole eccole lì aspetta che mi dà un fastidio le sposto tutte e poi le rimettiamo giù ok allora mi manca notare che sono queste precise e poi dobbiamo andare a prendere le travi salvo che non ci dica di fare altro ma non credo è bello che me lo mette a posto rinnova le tegole quindi allora è necessario rinnovare le tegole per prima cosa cedi la modalità revision ok posizioniamo imposto il banco cliccando col tasto destro del mouse leva tutte 10 le tegole dalla cassa ok le prendo tutte col tasto destro ok clicca sul banco virtuale lo posizioniamo tab apri lo schermo del banco bellissimo queste schede sono ok seleziona la tela la tela? il panno? si ok ma devo farlo per tutte mannaggia ok qua dovremmo aver pulito tutto ruotiamola e la puliamo anche è fatta un po' un po' così però puliamo anche da questa parte si ma è lunghissima la cosa è veramente lunga per quanto nella visualizzazione 3D non sono granché però cioè pulire 10 tegole oddio poi si impara non si fa veloce però è sempre più o meno uguale la percentuale 47 da una parte e la resta dall'altra vediamo se è uguale anche questa ma penso di sì no questa è diversa 42 e questi sono i classici giochi questo poi è un parere prettamente mio niente di di che come passatempi nel senso che avete magari siete annoiati non sapete cosa giocare il vostro gioco principale vi sta stressando non riuscite ad andare avanti passate il tempo o dovete aspettare magari per uscire a cena insomma e volete passare un po' il tempo vi mettete qui e continuate il vostro lavoretto di restauro un po' come può essere visto anche il modellismo ad esempio dove uno si siede inizia a pitturare la sua miniatura il suo modellino con calma con tutta la calma del mondo e si rilassa quindi questo può essere un bel un bel passatempo ok però ecco se lo giocate invece con lo scopo di doverlo finire di doverlo fare con la frustrazione di di quello che non 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 fa qua andava pulito un pelino e allora non fa per voi insomma adesso qua ok non mi ricordo quante ne ho fatte quante me ne mancano però noi andiamo avanti intanto abbiamo ormai imparato come funziona una decina adesso credo ne abbiamo fatte un po' mancheranno due o tre credo non ho perso il conto ormai ok 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 ora esce dalla casa il momento di costruire l'impalcatura perfetto usciamo prendo mi da fastidio avere in mano un oggetto quindi prendo questo usciamo dalla casa clicchi i punti di costruzione l'impalcatura ok bisogna scendere intanto non c'è il danno con la mano si possono prendere anche i rifiuti ma non non è questo il momento devo costruire l'impalcatura quindi ok costruisci per costruire l'impalcatura devi cliccare più volte con il mattello ok il mattello si ok impalcatura fatta poi si sale su salgo e costruiamo anche l'altra questo dovrebbe essere due punti tre punti mattellata lì e tre punti mattellata lì ok impalcatura fatta fatta ma non non finita perché bisogna fare anche questa quindi uno due tre uno due tre e si va su di nuovo a fare anche l'altra ok perché qua bisogna rimettere nuovo questo edificio poi ovviamente mancano anche gli altri quindi uno due tre perfetto distruggi il legno rotto sul tetto quindi che cosa si impugna distruggi ascia vediamo se me lo fa fare tutto da qua o bisogna salire no bisogna salire vabbè iniziamo con questo e poi saliamo sul tetto e finiamo il lavoro si si sale e andiamo avanti ma sono ancora in modalità sì infatti eh ma devo tenerla perché se no non mi fa vedere dove sono devo tenere la modalità occhiali me ne sono accorto perché vedevo il verde glitchato quel il tavolo che abbiamo fatto per il restauro di là quindi vediamo se riesco o no devo risalire sull'impalcatura fortunatamente siamo dotati di salto però non siamo delle cime del salto quindi saliamo dalla scaletta e finiamo il lavoro adesso dobbiamo mettere anche le travi che sono arrivate adesso fatemi guardare giù se sono arrivate sì infatti eccole là sono pronte e anche le tegole nuove poi non sono giochi dove tecnicamente potete fallire come capitava anche su house flipper insomma distruggi le tegole ok perfetto entra in aeree e clicca sulla cassa virtuale per attivarla ok ah ok ci facciamo portare su il che volo allora torno in modalità mani salgo di sopra salgo ancora di sopra senza cascare di sotto capì appunto non è messa benissimo quella scala lì eh ma è uguale alla fine è uguale non bisogna fare movimenti avventati ok clicco qui prendo oggetto e inizio a posizionare le travi clicca accogli posiziono ah me li prendo in automatico ok clicca sulla cassa prendo oggetto ok me li prendo in automatico ok bene 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 ok 1 2 3 4 5 ok ancora questo quello lì ancora si ne manca una credo ok eccola allora clicca ok posiziona le tegole sul tetto come le posiziono prendo oggetto ok è lunga dobbiamo mettere nel 150 povero il mio mouse però è carino perché vedete come vengono posizionate vedete proprio il tetto cambiare di aspetto infatti adesso ha già un altro aspetto inizia ad essere molto più bello da vedere e grazie al cavolo direte ma va bene dai e mettiamo queste tegole ormai ne abbiamo messo 50 ne mancano un centenario continuiamo il lavoro e comunque 35 minuti ci stanno calcolando che stiamo mettendo a posto solo il primo edificio e sono 3 edifici e rimetteremo nuovo questo borgo il problema di questi giochi non è tanto la ripetitività perché comunque dà una certa soddisfazione vedere un lavoro finito io ho sempre trovato questi giochi un po' limitati dal punto di vista economico poi probabilmente non è questo a cui puntano però vorrei anche la possibilità magari di fallire di doverci mettere un pochino più di testa nei lavori qua è tutto guidato però sicuramente da quello che ho visto andando avanti bisognerà seguire dei progetti e non sbagliare però la possibilità di sbagliare secondo me resta comunque minima come lo è anche ad esempio nei giochi di coltivazione nel senso che si è vero possono marciare le colture però bisogna essere proprio negligenti nel giocare insomma quindi ok qua dovremmo aver fatto io continuo a prendere le tegole ma ne mancano 4 che non capisco dove sono qui no mancano 4 tegole ma non so dove manchino perché poi qua sopra va quella la tegola eccola lì una e mancano anche lì però eccole lì una due tre ok entriamo nel tetra clicca sulla cassa dobbiamo mettere le tegole sul tetto che sono queste qui adesso una due bisogna tornare giù ok per dire un apposizionamento del genere potrebbe essere carino con un minigioco ma velocissimo e se sbagli tu hai una perdita economica quindi diventa soddisfacente poi diciamo completare tutto senza sbagli posizione travi sul pallet ok scendiamo giù e vediamo beh la casa adesso è già cambiata decisamente rispetto a prima sposta le travi ah adesso ci fa iniziare a lavorare su quest'altra casa immagino perché le travi le sto spostando adesso non sono su tutte poi dobbiamo essere bravi a posizionarle in modo abbastanza stabile bella la rotazione della telecamera questa mi piace molto ma inoltre mettiamo l'ultima si posizionano da sole ok manda le travi alla segheria quindi le mando alla segheria 500 dollari anche qui attendo la consegna sposta la porta rotta allora tengo premuto il tasto centrale seleziono l'obiettivo sposta la porta rotta la porta rotta era qui beh intanto posizionano del tavolo sposto la porta rotta dove la metto la porta rotta e non riusciamo a farla uscire però aha questo si apprende da bambini ok allora manca un minuto 25 riparo la porta sul banco per la ristrutturazione che è di là aspettate che seleziono così mi indica dove andare ok banco della ristrutturazione è là no credo no qui vediamo ma anche qui sollevo la porta oggetti da rinnovare ok dov'è essere rimessa sul banco di restauro inoltre raccogli un oggetto da ristrutturare vedrai sullo schermo mostro come sarà il restauro ok non so dove è il banco del restauro io però di là credo questo ne possiamo mettere solo uno alla volta quindi vedete che mi fa mettere questo o quello io lo messo lì chi è il banco del restauro guardate ma ti mancano tre pezzi questo è l'appoggio qui no devo capire dov'è il banco del restauro riparo la porta sul banco per la ristrutturazione la porta è qui sollevo e dove la devo mettere? beh non so dov'è assembla no posso assembla eccola qua la porta ristauro oggetto non raccolto eh eh sì lo raccolgo rotazione appoglio lì ok vediamo oggetto non raccolto no non me lo fa fare adesso lo ha raccolto vabbè non non si capisce comunque qua ricomincia nuovamente il discorso del della del rifacimento anche di quest'altra casa e qua c'è l'oggetto poi che è quello storico ci sarà in giro anche la lancia romana che abbiamo visto prima che dovremmo prendere per farci un museo ragazzi io interromperei qui perché ovviamente adesso devo studiarci un attimino carino il borgo carina la casa cambiata tanto se poi andate indietro nel video la vedete tutta demolita quindi è molto molto interessante come discorso eccole qui queste sono le i ritrovamenti storici fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti non so dire ancora il prezzo quindi purtroppo però io pensavo qualcosa di molto più grezzo e invece i flipper i giocchi flipper quindi house flipper castle free flipper e tutti gli altri sono fatti anche discretamente bene quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti alla prossima ragazzi e ciao ciao grazie